Si è tenuta sabato sera la tanto acclamata esibizione di Beyoncé Alcoachella, festival musicale più famoso del mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e che ha visto esibirsi, negli corso degli ultimi 40 anni, alcuni degli artisti più famosi di sempre, da Paul McCartney a Lady Gaga. Beyoncé, che è stata la prima donna afroamericana a tenere il concerto principale del festival, è stata apprezzata moltissimo, la sua esibizione, infatti, ha riscosso un grande successo sui social, finendo per occupare tutte le prime posizioni nelle tendenze. Dopo aver aperto il concerto con Crazy In Love, Beyoncé ha poi cantato Lift Every Voice and Sing, brano di inzio novecento definito inno degli afroamericani. Sul palco insieme alla cantante sono saliti il marito Yei Zeta, la sorella Solange Knowles e anche Kelly Rauland e Michelle Williams, componenti del gruppo Destinize Killed con il quale Beyoncé ha iniziato la propria carriera. Il trio si è esibito con i brani Sae Miname, Soldi e Los Emi Breit. Destinize Killed Reunion Cancelletto Bichella Cancelletto Coacchella Livestream Cancelletto Coacchella 18 Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella 2018 Cancelletto Beyoncé pic.twitter.com barra atis4z i lunga rfg Adocchiocciola ad Oye Music 15 aprile 2018 18 Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella Cancelletto Coacchella